Ciao, sono Valerio Bacuzzi, classe 1991, ruolo alla Grande Centro, sono nel basket rovello dalla stagione 2011-2012. Davide Bombarda, 1994, guardia, proveniente da Cermenate. Marco Mosconi, 1985, playmaker, nel basket rovello dalla stagione 2011-2012. Lanzio Lorenzo, classe 92, playmaker, proveniente da Pallacanestro Cantù. Stefano Galli, 1983, guardia, da due anni a rovello. Luca Bottinelli, 1989, ala, nel basket rovello dal 2011. Cristian Gorni, 1992, guardia, nel basket rovello dall'anno scorso. Gabriele Zoia, 1992, guardia, ala, dal basket rovello dal 2011. Andrea Bosa, 1988, guardia, proveniente da Algorla Cantù. Borghi Giorgio, 1982, ala, proveniente da Basket Mera. Davide Terranio, 1983, play, guardia, nel basket rovello dal 2011-2012. Nicola Sporro, 1986, alla Grande, al basket rovello da marzo 2012. Riccardo Pancino, 1987, centro, dal basket rovello dalla stagione 2011-2012. Ciao, sono Manuel Ciglio, sono il capo allenatore del basket rovello. Già nella stagione scorsa allenavo qua, prima allenavo all'Olimpia Cadorago. Fabrizio Bulzoni, classe 1965, aiuto allenatore addetto alle statistiche, secondo anno al basket rovello.